Simone, l'importanza di questa giornata, del fare del bene, come hai detto anche tu in conferenza? È fondamentale, come ho già detto, gente che può fare del bene divertendosi, io penso che sia la cosa più bella, nel senso che abbiniamo il divertimento del padel aiutando le persone che hanno bisogno. Torno un attimo anche sulla nazionale, sulle emozioni di ieri sera, il gol di Zaccagni, come stai vivendo questa avventura? È una squadra alla quale ci si può affezionare, guardando anche oltre. Assolutamente sì, anche perché adesso che sono uscito dal campo da un po' di anni, ritorno a vivere la nazionale come la vivevo nel 90, che ero ragazzino, i mondiali 90 per me sono uno dei ricordi più belli che ho, non è andata come volevamo, però è stato un ricordo fantastico e comincio a riviverla come quando ero bambino. Un po' distaccato, ma con grande amore verso la nazionale. Che caratteristiche metteresti in evidenza di questa nazionale? Perché sai, i risultati contano, il gioco potrebbe contare, una qualificazione che è arrivata al fotofinish. Che nazionale è? È una nazionale che ha, secondo me, dei bravi giocatori. Poi nel contesto ha fatto le ultime due prestazioni, la Spagna ci ha messo sotto e con la Croazia è stata una partita un po' particolare. Sentivamo un pochino la pressione del dover rimanere a galla. Per fortuna è andata bene, secondo me è il segnale positivo, bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno, perché comunque siamo arrivati all'obiettivo e possiamo giocarci gli ottavi di finale con la Svizzera. Posso chiederti cosa ne pensi del nuovo corso che sta battezzando la Juve con Tiago Motta, se è l'uomo giusto secondo te per ripartire, ricostruire e magari inaugurare un nuovo ciclo. Io con Tiago Motta ci ho giocato tre partite in nazionale, quindi lo conosco, non benissimo, ma tutti me ne parlano un gran bene, sia come persona che come allenatore. La Juve ha fatto questa scelta e penso che sia un punto di ripartenza importante e spero che possa tornare a portare la Juve dove merita. È raggiunto il momento di cambiare secondo te alla Juventus? Filosofia, uomini? Secondo me il problema grande è che da fuori noi viviamo un mondo, poi da dentro se ne vive un altro. Io sono stato anche dall'altra parte, quindi le valutazioni che si fanno da fuori sono un po' in base alla partita domenica-domenica, invece poi c'è una settimana di mezzo che uno vive all'interno dello spogliatoio, del campo di allenamento, dello stare insieme che sono valutazioni queste che vanno fatte da parte della società, è troppo difficile da fuori fare una valutazione così. Ma una tua valutazione su un incedibile, cioè da chi è che la Juve deve ripartire? Secondo te più Ildiz, più Vlaovic, più Bremer? Io penso che Ildiz sia un giocatore forte, ma secondo me la Juve si può ricostruire su fagioli, perché secondo me è un giocatore che ha caratteristiche diverse dagli altri, è un giocatore che ha grande qualità, ha intelligenza calcistica e questo penso che può essere un punto di ripartenza. Da esterno a esterno, come giudichi finora l'Europeo di Federico Chiesa, la situazione contrattuale sta pesando? No, io non credo, perché quando vai in nazionale non pensi alla situazione contrattuale. La nazionale è qualcosa che va oltre, nel senso che Chiesa è un ottimo giocatore, sta giocando in una posizione che credo non ami del tutto giocare a destra, preferisce giocare a sinistra e non è da poco, perché io ho fatto l'esterno da tutte e due le parti, ma c'è la parte dove ti trovi meglio e l'altra dove ti devi adattare a giocare in quel contesto. Per la nazionale si gioca pure in porta o in difesa, per cui sicuramente non gli piace al 100% giocare a destra, però è un grande giocatore, l'Italia si aspetta tanto da lui e quindi ci aspettiamo che ci possa portare grandi risultati nelle prossime partite. C'è un nuovo mercato che preleveresti dalla nazionale? Un giocatore superiore agli altri o che ti piace di più? Frattesi, Frattesi per me è un giocatore importante, c'è inserimento, c'è intelligenza, c'è gamba, c'è gol, perché all'Inter pur giocando poco ha fatto i suoi gol, quando entra in campo è uno che pesa, lo senti in mezzo al campo. È stato allenato da Antonio Conte, ti chiedo come lo vedi a Napoli? Lo vedo bene perché so come preparerà i suoi giocatori in maniera fisica, in maniera psicologica, in maniera tattica, e poi è stato anche un pochino a riposo, quindi credo si sia aggiornato ancora di più e vedremo cose nuove. Il capitano è Pepe perché dei deri non posso farlo capitano, perché giocherà con me Pietro, quindi è giusto, ci sono i livelli, è giusto che fa il vice capitano, però no, a parte gli scherzi. I giocatori bravi, l'ho detto Locatelli che non gioca è buono, Thomas che non gioca va bene perché è un livello superiore, lui Amoruso, Fiore, Candelà, ci sono 4-5 giocatori importanti che giocano a livello, Tony e Ceccarelli sono una bella coppia, quindi ci sarà da combattere, da battagliare, ci divertiremo.